. Trono Over, Sossio Aruta, lo sfogo contro la ex moglie Sossio Aruta del Trono Over si sfoga contro la ex moglie. Molto probabilmente, a settembre, farà nuovamente parte della prossima edizione del programma di Maria De Filippi dedicato alla ricerca dell'anima gemella. . Parliamo, ovviamente, della trasmissione di successo Uomini e Donne, che da anni riesce a tenere incollato il pubblico davanti alla televisione. Appassionandolo con le storie d'amore dei suoi protagonisti. . Il caso di Sossio Aruta, cavaliere del Trono Over. Sossio, fin dalla sua prima comparsa, è stato in grado di attirare l'attenzione dei telespettatori su di sé. . Tanto da essere uno dei protagonisti del programma ad essere tra i più seguiti sui social. Ed è proprio grazie ai social che Sossio Aruta riesce a comunicare con il pubblico del Trono Over di Maria De Filippi. Qualche ora fa, il cavaliere di Uomini e Donne, ha usato i social come un mezzo di sfogo. Scrivendo un messaggio, non propriamente carino, nei riguardi della sua ex-moglie. Trono Over, Sossio Aruta il post contro la sua ex-moglie. Negli scorsi giorni, il cavaliere Sossio Aruta prima del Trono Over aveva scritto un dedica per il nipote, mentre oggi ha usato i social per scagliarsi contro sua moglie, la madre dei suoi bambini. . Parole non proprio consolatorie nei riguardi della ex-moglie, mentre, ancora una volta, Sossio Aruta non si risparmia nei confronti dei suoi figli. Ai quali, puntualmente, non fa altro che esprimere, grazie all'aiuto dei social, l'amore che prova nei loro confronti. . In attesa di rivederlo a settembre, con il ritorno di Maria De Filippi e del suo trono over in tv, Sossio si gode la compagnia dei suoi amati figli. .